Buongiorno fratelli rossoneri, buona giornata a tutti, buongiorno scudettati. Bene, vi ricordo innanzitutto che oggi alle 17 c'è la bellissima live insieme a Gabriele, come sempre, insieme a due ospiti, uno è Stefano Melegari che è il caporedattore della Panini ed ex direttore di Forza Milan, ovviamente un grande tifoso rossonero e ci sarà anche Francesco Vandia che è un conduttore televisivo e radiofonico con cui ho collaborato, quindi mi raccomando le 17 non mancate ragazzi. A parte tutte le notizie che stanno girando arrivano anche notizie interessanti, notizie positive, pare che Newcastle sia ragazzi interessato a paquetà per una cifra intorno ai 60 milioni e questo ci fa sfregare le mani perché sapete che non abbiamo una percentuale di diritto intorno al 15% comunque sulla futura e eventuale rivendita. È confermato anche l'acquisto di AUG da parte dell'Entrack Frankfurt, quindi arriveranno soldini anche di lì, insomma i soldi stanno arrivando un po' ovunque, quindi non si può diciamo dire che non c'è denaro per eventualmente fare il mercato. Il problema come aveva spiegato Gabriele in questo momento o un altro non è non avere soldi ma è semplicemente attendere il passaggio societario. Bene, in quest'ottica parliamo di un giocatore che ormai ha messo la bocca di tutti in questi giorni. Come riporta anche la Gazzetta ragazzi, Noah Lang, centrale del centrocampista del Bruges, 21 anni, giovane, molto 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 interessante, un profilo veramente interessante, sarebbe in orbita Milan in orbita Milan in maniera concreta perché la certezza che si ha in questo momento è che mercoledì l'agente Bart Beving e il papà di Noah Lang, cioè Jeffrey Lang, hanno incontrato i dirigenti del Milan appunto a casa Milan e hanno approfondito il discorso. Non è la prima volta che si vedono questa ma è già la seconda volta, la prima volta era stato se non sbaglio a febbraio. Noah ha interesse, gli piace il progetto Milan e ha tutte le intenzioni di trasferirsi al Milan e l'accordo con il giocatore pare sia già stato trovato su un contratto quinquennale, ok? Al Milan non spaventa neanche la cifra richiesta da parte del Bruges che è intorno ai 22 milioni, pare che si possa comunque trattare, quindi sgrammare qualcosa, a qualcosina di meno si può anche portare a casa Noah. Per quanto riguarda invece Ruolo, sentivo parlare qualcuno oggi anche sul canale Telegram che diceva che Ruolo è anche un esterno sinistro e quindi di conseguenza sarebbe assurdo prenderlo perché allora non arriva De Kettelar, perché c'è già le a sinistra ragazzi, Noah Lang è un giocatore di ruolo naturale, sicuramente predilige la parte sinistra. A Lang però è stato prospettato un impiego nel Milan da trequartista centrale, quindi un uomo sottopunta ragazzi, il ruolo appunto che doveva coprire Brian Diaz e che in realtà poi non ha fatto in maniera così eccellente. Quindi Lang ragazzi può giocare in tutte le posizioni lì davanti, sinistra, centrale, destro e può fare anche la punta, insomma è il classico giocatore poliedrico, passatemi il paragone alla Kronici, ma pianeta diverso rispetto a Kronici perché più tattico, più tecnico, ha più il piedino. E Milan è molto interessato a Lang proprio perché è uno dei ruoli in cui ha bisogno di rinforzarsi, perché ricordatevi che appunto Kessi ultimamente spesso ricopriva quel ruolo e poi ovviamente col suo addio c'è bisogno di rinforzare. Qual è il problema, qual è il blocco in questo momento? È semplicemente l'attesa e il Milan, Massaro e Maldina hanno chiesto un attimino al procuratore di attendere qualche giorno ancora per il passaggio proprietario e poi concludere la trattativa. Quindi Noah Lang è addirittura d'arrivo come giocatore. Il discorso Lang non esclude il discorso dei Kettler, quindi stiamo tranquilli, non vi preoccupate. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Noi ci vediamo alle 17 con la live, sempre Forza Milan, ci sentiamo, ci vediamo più tardi e adio!